Antonio Di Rocco, questa sera in una nuova veste, quella di Presidente del Consiglio. Sì, questa sera mi sono trovato calabuttato nella veste di Presidente del Consiglio perché purtroppo su quella sedia era vuota. Quello è un ruolo che deve essere super partes, un ruolo istituzionale e hanno deciso pur di non far svolgere il Consiglio Comunale di questa sera, di tenerla vuota. Noi abbiamo dimostrato di essere compatti, tutti e dodici siamo stati in Consiglio, purtroppo non l'abbiamo dovuto fare e l'importante è che ormai la gente lo possa vedere in che condizioni stiamo cercando di lavorare. Prima passano questi sei mesi e meglio è. Lunedì? Lunedì ci sarà una seconda convocazione, noi saremo comunque dodici, questi siamo, dobbiamo vedere loro quanti saranno. Il problema è che al di là del sorpasso di lunedì che possono anche magari andare, comunque la città in questo momento non è governata. Siamo in una situazione drastica che non so se in questi sei mesi, non so che non riesco a capire che senso ha andare avanti in questo momento. Problemi in maggioranza secondo voi? Problemi da sempre, su tutti i campi.